Meno 6,60% fino a questo momento, mentre sto registrando questo video, è il dato che registriamo su Bitcoin in solamente 2 ore. Cerchiamo di capire in questo breve video quello che è successo a Bitcoin. Lo scopiamo insieme dopo la sigla, benvenuto, benvenuto nel canale Marchese del Cripto dove si parla solo pan al pane e vino al vino. Vedere questi candeloni rossi che sembrano non volersi mai fermare il tutto in sole un paio d'ore non è sicuramente lo scenario ideale per tutti noi cripto investitori. Ad ogni modo cerchiamo un attimino di capire quello che c'è dietro, abbiamo già visto in diversi video che assolutamente sono i cosiddetti cigni neri, ossia sono quelle news che possono capitare improvvisamente, che possono dare un sentiment negativo al mercato e che quindi possono causare questi drop improvvisi. In questo caso la movimentazione è importante, siamo passati da 45.000 dollari fino ad arrivare attualmente intorno ai 42.000 dollari, quindi c'è stato un calo di oltre i 3.000 dollari e cerchiamo appunto di capire a cosa sia dovuto questo calo. La soluzione a questo enigma ce la dà il sito di Cointelegraph il quale ci dice che un vecchio fad causa nuovamente un dip di bitcoin, una notizia vecchia di settimane va a scendere il prezzo di bitcoin. Andiamo a capire cosa è successo, la mossa istintiva è arrivata quando una nota della banca centrale cinese la People's Bank of China ha iniziato a circolare online, criminalizzando praticamente tutta l'attività di criptovaluta tranne il possesso. Ossia nuovamente la notizia che la Cina ha un nuovo ban, l'ennesimo ban di queste criptovalute, una notizia dell'ennesimo ban delle criptovalute in Cina, ha fatto sì che ci sia stato questo drop improvviso. Ad ogni modo questa informazione della Bank of China era già uscita il 15 settembre, nel senso che queste linee guida sono già state realizzate il 15 settembre, ma sono state pubblicate oggi online, sono state pubblicate oggi sui social, questo ha fatto sì che il sentimento negativo prendesse il sopravvento. Naturalmente questo è l'ennesimo fad dovuto alle banche cinesi, ai ban sulle cripto, ne abbiamo visti di cotte e di crude, che avvengono molto molto spesso. Continuiamo a leggere, le reazioni simili sono verificate a causa del presunto imminente fallimento del gigante immobiliare cinese Evergrande, abbiamo visto quello che è successo in questi ultimi giorni, essendo stato un argomento di nicchia per un pedosimicativo prima che l'attenzione di maglia maestima scatenasse effetti a catena sulla criptovaluta e sui mercati tradizionali. In parole povere questa linea guida ci dice che in Cina è completamente vietato, quindi utilizzare le criptovalute, quindi tutte le attività legate alle criptovalute ad eccezione del possesso delle stesse. Quindi dopo il problema di Evergrande, ancora un problema legato alla Cina e ai famosi ban, ma a me a questo punto viene da pensare, siccome sono diversi anni che questa storia del ban delle criptovalute in Cina va avanti e ogni tanto escono notizie, poi vengono smentite, poi escono ancora, poi fanno un ban, poi ne fanno un altro, poi aggiungono un pezzettino. Potrebbe essere facile pensare a questo punto che lo stesso governo cinese abbia eventualmente un tornaconto da queste fluttuazioni del prezzo, perché sennò altrimenti non si spiega. Ok che può essere contrario sulle criptovalute, ma o si è chiaro e si prende una decisione, oppure non si è chiaro e si continua su questa strada. Quindi qualora non siano chiari in questo caso, mi viene semplicemente da pensare questa motivazione, molto probabilmente sbaglierò. Non so, fatemi sapere anche voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se mai ci sono altre motivazioni che mi sfuggono, piuttosto che eventualmente altre opinioni che possono essere naturalmente interessanti. Per quanto riguarda invece le altcoin, anche loro stesse naturalmente sono calate di parecchio. Vediamo questo candelone di Ethereum, vediamo allo stato attuale come sta Ethereum. Ethereum addirittura sta perdendo di più rispetto a Bitcoin, andiamo a vedere subito di quanto è stato questo drop, è stato del 9,50%, un 9,50% di drop è comunque sia una cifra importante. Ad ogni modo eventualmente questi non sono consigli finanziari naturalmente, ma questi cigni neri possono sempre rivelarsi delle ottime opportunità di acquisto per chi crede in questo settore e chi crede eventualmente anche nel lungo termine. Non pensiamo solo esclusivamente al breve termine. Come vedete il breve termine è influenzato da tante azioni, da tanto FAD, da news, da questi famosi cigni neri. Per quanto riguarda i cigni neri, consideriamo anche che anche negli stessi Stati Uniti la prossima settimana molto probabilmente si voterà per l'infrastructure bill e qualora passasse così com'è, sicuramente anche per gli Stati Uniti, non è un'ottima notizia relativamente parlando del settore delle criptovalute. La cosa importante da capire è che qui non sono cambiati i fondamentali, non è successo assolutamente nulla, è semplicemente una news limitata, o meglio una news vecchia, uscita semplicemente oggi che ha fatto sì che si generasse questo FAD, questa paura. Naturalmente questi eventi non sono prevedibili, tutto sta è come vengano affrontati da noi. Allora questi eventi possono essere affrontati come catastrofici e quindi fondamentalmente creare del panic selling e quindi vendere eventualmente le nostre criptovalute, ma quella è una decisione che spetta solo e esclusivamente a te, piuttosto che magari sfruttare questi momenti per poter aggiungere un po' di pezzettini ai nostri investimenti. Ma quello naturalmente dipende da te, se credi nel settore, se credi nel lungo termine, se vuoi solamente operare nel breve termine, solo ai fini speculativi, questo chi meglio di te può saperlo. A ogni modo magari molti di voi neoentrati sicuramente vi state accorgendo che questo non è un settore semplice, benché insomma siano così grossissime possibilità eventualmente di guadagno, ma è anche vero talvolta il contrario. Quindi capisco benissimo che non sia un settore per tutti, è naturalmente un settore per cuori forti. L'unico consiglio che posso darvi ragazzi miei è quello di non farvi sovrastare dalle emozioni, né per quanto riguarda la gioia quando i prezzi salgano in maniera repentina, né quando eventualmente capiti l'opposto. Oggi era in programma un altro video da mandare online, ma a questo punto, visto quello che è successo, ho preferito fare questo video volante. Bene, se il video ti è piaciuto un bel like, è stato molto breve, insomma teniamo semplicemente a spiegarti qual è stata la motivazione. Ci vediamo al prossimo video, ciao!